Siamo ormai quasi alla fine del quarto giorno di manifestazione, come valuta la presenza di visitatori esteri? Questa edizione di Euroluce 2009 ci ha molto impressionato sulla presenza di visitatori internazionali fin dal primo giorno. Devo dire che ci sono una notevole quantità di visitatori che arrivano dai mercati russi e dai mercati europei in questo momento e essendo anche al quarto giorno siamo pienamente soddisfatti di questo tipo di affluenza. Quali sono secondo lei le tendenze di quest'anno nel settore dell'illuminazione? Per quanto riguarda il settore dell'illuminazione decorativa, le tendenze di quest'anno sono di avere dei prodotti molto puliti a livello di forme e molto caratterizzanti invece nei colori. Questo perché negli ambienti molto minimalisti al quale il mondo dell'architettura in questo momento si rivolge il prodotto di illuminazione diventa anche un prodotto determinante da inserire nel contesto stesso. Grazie. 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 Grazie.